E mi auspicio che si moltiplichino le opportunità in cui noi, cattolici e ortodossi, a tutti i livelli, possiamo lavorare insieme, pregare insieme, annunciare insieme l'unico Vangelo di Gesù Cristo che abbiamo ricevuto dalla predicazione apostolica per sperimentare sempre di più in questo cammino comune l'unità che, per grazia di Dio, già ci unisce. Eminenza, cari fratelli, grazie ancora per la vostra presenza. Per l'intercessione dei Santi Pietro e Paolo e di Sant'Andrea, fratello di San Pietro, il Signore Onipotente ci conceda di essere fedeli annunciatori del Vangelo.